Le scosse di assestamento a Bagnarripoli sembrano pian piano farsi più lievi dopo l'annuncio dieci giorni fa del sindaco Casini che ha lasciato il PD per entrare in Italia viva. Dieci giorni in cui il lavoro del Partito Democratico è stato lungo e faticoso per tentare di mantenere la discussione su un piano costruttivo evitando il rischio di far crollare tutto con la sfiducia del sindaco e il successivo commissariamento. Ciò che invece si delinea all'orizzonte è un patto di governo fino alla fine del mandato prevista per il 2024. Almeno questa è la proposta che l'assemblea del PD di Bagnarripoli ha messo ieri sera nero sul bianco con 18 vote a favore, 5 contrari e 2 astenuti. Un sentiero stretto fatto di 5 condizioni inderogabili da sottoporre al primo cittadino. La verifica costante dell'operato del sindaco, una sua minore visibilità e maggiore per la giunta, la condivisione preventiva in ogni decisione, la centralità dei consiglieri e assessori PD nelle loro deleghe di competenza, la ridistribuzione agli assessori delle deleghe attualmente in capo al sindaco. Quest'ultimo punto, lo si capisce, è quello più spinoso che difficilmente Casini potrà accettare Tucur, soprattutto per ciò che concerne il bilancio. Ma certo la strada del dialogo può essere risolutiva e a nessuno conviene rischiare il commissariamento, a maggior ragione dopo le parole pronunciate ieri sera dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Siamo fuori, grazie a Dio. Cioè, se il PD deve appoggiare un sindaco di Italia Viva lo sfiducia e però chiede a quelli di Italia Viva di appoggiare i sindaci del PD, c'è qualcosa che non torna. L'idea di mettere in discussione il sindaco perché è di un altro partito fa parte di una mentalità che non è una cultura di coalizione. Se vale il principio che mandano a casa Casini, vorrà dire che noi bisogna uscire da tutte le parti in cui siamo con loro. Non credo gli convenga. Al di là delle minacce, dunque, all'orizzonte si vede una schiarita. Nei prossimi giorni il PD ripolese si impegnerà a spiegare ai cittadini, con assemblee pubbliche e riunioni, il passaggio delicato attraversato dal comune, così come verrà fatta una nuova verifica di maggioranza anche con le altre forze politiche. Poi, già questo venerdì, potrebbe esserci l'incontro con il sindaco e la sottoscrizione del patto, se Casini deciderà di accettarlo.